Caldo insopportabile nell'Aula Vittorini. Il Consiglio Comunale ha deciso di traslocare la seduta. Infatti è stata aggiornata a martedì 2 luglio, sempre alle 19, per la prosecuzione dei lavori, ma non al Vermexio. L'Aula sarà infatti convocata in altra sede, presumo in Bilbente, all'Uber Center. La decisione è stata assunta dal Presidente Moena Scala, all'astante il perdurare del guasto all'impianto di climatizzazione della Sala Vittorini. La tutela dei diritti dei consiglieri si realizza anche attraverso la garanzia di un luogo idoneo allo svolgimento dei lavori, in particolare sotto il profilo della salubrità. Lo ha detto in Aula il Presidente, che poi a margine dei lavori ha dichiarato da circa un anno, causa il mancato funzionamento dell'impianto di climatizzazione, l'Aula Consigliare presenta condizioni del tutto proibitive per l'eccesivo caldo in estate e per il freddo insostenibile in inverno. Prova ne è stata questa seduta, svolta per senso di responsabilità per l'approvazione di un prevedimento con scadenza 30 giugno, ma necessariamente aggiornata subito dopo in altra e diversa sede. Il caldo, intollerabile, ha causato il malessere fisico di un consigliere, costretto ad abbandonare i lavori prima della loro conclusione, oltre alla sofferenza evidente di tutti i presenti. Pur considerando le difficoltà di ordine pratico legate alla riparazione delle macchine probabilmente obsolete, non si può attendere oltre, sebbene lo spostamento dei lavori del Consiglio determineranno pochi disagi, quali, per esempio, la mancanza della diretta streaming. Ci auguriamo che questo stato di cose abbia carattere temporaneo e che trovi una pronta risposta da parte degli uffici preposti.